Off Topic, fuori dai luoghi comuni, Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti Immaginate un mondo senza, bluetooth, stica, golf del 2001, sali sulla tua golf del 2001 domani senza il bluetooth e ti voglio vedere come fai a telefonare Sarà la volta buona che non faccio più telefonate mentre guido, stupendo, togliamo l'idea Salutiamo gli amici della Municipale di Milano, tutto bene? Ma uso sempre gli auricolari No, lo dico, lo dico soltanto per... Comunque bluetooth è stato rivelato nel 99, per dire, poi Wikipedia Eh cavoli, questa è una botta, è un problema Wikipedia è nata il 15 gennaio 2001, l'ho letto su Wikipedia tra l'altro, quindi questo è il Crown Inception Skype, quindi senza Skype, un mondo senza Skype Ma non si usa ancora Ti ricordo che durante il Covid l'hai usato anche tu Il primo smartphone, per definizione, quello con la mela Anche stica Anche stica Lanciato nel 2007 da Apple Beh, scusami, a questo punto il touchpad anche, nel senso che è una... Sì, la tecnica Immagino che sia la tecnica più... Perché la cosa... Credo di sì C'era un altro cellulare di cui adesso non mi ricordo il nome, che era il Motorola, qualcosa Non ci stanno pagando comunque Vabbè, nel caso comunque dateci qualcosa Esatto, va sempre bene Un bonifico, va benissimo, grazie Non c'erano nel GPS Ma è stica Cioè, dovevi prendere l'Atlanta, mi ricordo mia, la pacca Noi avevamo in macchina, tre atlanti e c'era nord, centro e sud Del mondo o dell'Italia? Sud e isole dell'Italia Mio padre faceva l'autista quando era giovane Io avevo lo stradario Michelin, bellissimo Stupendo Segnato matita e penna E a questo punto anche, come si chiama, la rubrica telefonica Le vecchie pagine bianche e pagine gialle Quella avevo 10 anni, 12, però si me la ricordo E poi ragazzi, scusate, mi stavo dimenticando I terrapiattisti Cioè, non è che non c'erano No, però grazie ai social network Sono arrivati poi attorno al 2004 Sono arrivati i terrapiattisti Che ormai sono vecchi, sono vecchi pure i terrapiattisti Perché poi ci sono anche i terrapiattisti Però noi oggi abbiamo un ospite e una terrapiattista Assolutamente Lo lasciamo a un altro programma Mi potrebbe denunziare, penso, esatto Per questo Queste cose qua, perché vi sto dicendo queste cose? Voglio un po' dimenticarcele oggi Perché oggi parliamo di cambiamento Il luogo comune di oggi è Non è cambiato nulla Una vaccata di dimensioni cosmiche, ovviamente Ovviamente sì Però noi prendiamo queste cose Adesso proviamo a spacchettarla Dipende, dipende E dipende però quanti anni hai, ho pensato Perché tipo, se tu sei nato dopo il 2000 Potrebbe non essere cambiato nulla Per queste invenzioni Poi ovviamente andiamo magari a vedere Che è successo nella storia Certo, certo, ovviamente Ed è cambiato qualcosa La cosa che mi ha suscitato Questo luogo comune Non è cambiato nulla È che potremmo chiedere A chi dice non è cambiato nulla Quale sarà il futuro Perché se non cambia nulla Ed è una costante nel mondo Queste persone potrebbero fare Il divino telma E dirci tranquillamente Guarda, è successo questo Vent'anni fa Non è cambiato una mazza E quindi avremo di nuovo Esatto Il famoso I corsi ricorsi storici Ma non arrivai mai Diceva un comico di quella signora O se no O se no dall'altra parte La tesi, l'antitesi E invece le cose cambiano Beppe ha fatto un elenco Di arrivato internet Di social network Eccetera Eccetera E quindi qualcosa Effettivamente cambia Ci sono certi meccanismi Corsi e ricorsi storici Che si ripropongono E anzi Peggiorano Il rapporto Tipo ricchi e poveri La solita piramide Capovolta Eccetera Eccetera Questo tuo spassionato motivo Di tirare fuori il capitalismo E questa lotta anticonformista Ogni cazzarola di puntata Ma ci sta Ci sta Basta guardare un po' i numeri Dattonde siamo su radio onda d'urto Mi sembra evidente Che trattere di Brescia Come la conosci? Perché arriva fino a Verona Andai via la festa Scusate Secondo me però Giusto per buttarla subito Questa qua E poi ce la dimentichiamo È un meccanismo È l'unica cosa seria Che voglio dire oggi Secondo me A questo luogo comune Si poggia su un meccanismo Di rimozione della vecchiaia Interessante come posizione Non è cambiato nulla No? Ecco Cos'è caduto? La mia borraccia Adesso è cambiato lo spazio Cioè all'interno della radio Cade la borraccia di Poli Cambia lo spazio Cambiamo noi Pensa quanto è cambiato Che adesso tutti abbiamo le borracce Una volta si andava sempre Con la propria motile di plastica È cambiata anche la coscienza La coscienza del clima La coscienza dell'ambiente È fantastica questa cosa Però dicevi una teoria interessante Che noi ci poggiamo Su quello che è stato Cioè tutte le volte che diciamo Non è cambiato nulla Noi speriamo che non cambi nulla Ma in realtà La realtà vera Lo vedi questo braccio? Sì Allora ieri Confessione Ieri ho fatto palestra Era un po' che non andavo Questo braccio Non scherzo Non riesco a raddrizzarlo E ti sei fatto male Non arriva in fondo Perché ho fatto i bicipiti Credo male Perché non li so fare Evidente Io non li ho Quindi è evidente che ho sbagliato Non riesco a tenere dritto il braccio Vai dal dottore Quindi cambia tutto Questo è il tema Cambia tutto Cambia tendenzialmente Se come stiamo invecchiando Un po' in peggio E quindi chi dice Che non cambia nulla È proprio perché ha paura Di questo meccanismo Potrebbe anche essere Bravo Hai detto la parola magica La paura Il sottotesto di questa puntata Non è cambiato nulla Chi lo dice Lo dice chi ha paura Del cambiamento E dice No no Se non è cambiato nulla Domani accadrà La stessa cosa che è accaduta ieri Quindi è un po' anche il terrore Che le cose cambino E ovviamente tiriamo fuori Anche elementi di psicologia I bias di rimozione Vogliamo ricordarci soltanto Le cose belle della vita Le cose negative Le buttiamo nel cassetto Ma in realtà ci sono sempre E soprattutto i cambiamenti Spesso sono molto traumatici Ma io vorrei chiedere a Maria Caffagna Che è qui con noi Ciao Maria Benvenuta off topic Allora Mi avevano detto Vieni parliamo del festival bar Certo E mi trovo in una puntata Gatto pardesca Aspetta Grazie Prego prego Però attenzione Il festival bar non è mai cambiato Su questo siamo d'accordo La formula del festival Oggi non c'è È cambiato Quindi qualcosa è cambiato Esatto Allora tu sei autrice Ediatrice e conduttrice Del podcast Il decennio breve Con Alice Oliveri E Stefano Monti Quindi insomma Parli proprio di un momento In cui abbiamo vissuto Un cambiamento epocale Noi della nostra generazione Il periodo esatto Del decennio breve qual è? 2001-2011 Quindi è successo di tutto Perché ricordiamoci Vabbè a partire dal 2001 Ovviamente le torri gemelle Ma il G8 di Genova Adesso arriva la domanda di Poli La faccio io Cosa stavi facendo quel giorno? L'11 settembre 2001 È vero ragazzi Allora io stavo guardando Non era la RAI Non era la RAI? Silenzio Era un te che te che te Per celebrare i 10 anni No i 10 anni Ma che dico I 20 anni? Dalla fine Anzi dall'inizio di Non è la RAI Ma pensa E hanno interrotto Le trasmissioni Eh no A un certo punto È partita la pubblicità Io ho cambiato Ho messo sul 2 Ho visto Oh un incendio È successo qualcosa Ops Effettivamente Ecco qui Poi abbiamo avuto E poi abbiamo avuto Anche il crack Lehman Brothers Del 2008 Se non sbaglio Insomma sono successe Un sacco di cose In quel decennio lì E ci siamo soffermati Un pochino A pensare noi tre Ti vorrei mettere Nel diciamo Nel banco degli imputati Su cos'è cambiato In realtà In questo decennio Che è stato un po' Il decennio formativo Per quelli della nostra generazione Per te qual è stata La pietra miliare Per esempio Del cambiamento Allora Insieme ai miei Colleghi di podcast Abbiamo intuito Questa cosa Che è un po' L'intuizione Da cui siamo partiti Per il decennio breve È un decennio In cui ancora C'era una differenza Tra cultura mainstream E cultura underground C'erano i veri alternativi E poi c'erano Le persone Che appunto Si adeguavano Alle modi Ed erano Due mondi Veramente molto netti Come Stranger Things E sotto sopra E il sopra sopra Invece L'arrivo dei social network Ha completamente Mischiato Sì È cambiato Completamente È cambiato tutto Cioè è arrivato MySpace A un certo punto Se non ricordo male Che è stato Un grande cambio Nella musica E poi a un certo punto Uno studente di Harvard Che si annoiava Ed era anche un po' Un po' creepy Ha iniziato a molestare Le sue colleghe di corso Ha creato questa cosa Che si chiama Faccia Libro E il mondo Di fatto esploso L'openheimer Della nostra generazione E si è creato Una specie di Gheziano Blob Un insieme di appunto Alto e basso Cioè mondo indie Che parlava Col mondo mainstream Quindi trovavi Una persona Che ascoltava Gli Arctic Monkeys Al primo disco Ma che ballava Sulle note di Britney Spears Esatto Di Fu Esatto Oppure di Avril Lavini Avete fatto una parentesi Su Avril Lavini Molto divertente Nel vostro podcast Tu con questa citazione Gheziana Avresti fatto felice Alice Perché il nostro Eh certo Alice Oliveri Che è una tua Giusto collega Che invitiamo adesso A venire in studio Quest'anno Deve venire in studio L'abbiamo sentita Spesso a voce Ma mai Vis a vis Lei è una grande fan Di Blob E in effetti Il profilo Instagram Che abbiamo aperto Che fa un po' Da contraltare Al podcast Perché il podcast È tutto parole Invece lì Vedi quello di cui Non parliamo Quindi Alice direbbe È un podcast Sinestetico Io ho ancora capito Che vuol dire Però giochiamo Adesso google Scusi Grazie Io sto facendo solo Di sì con la testa Ma in realtà Sono ancora fermo È un alto È un basso È un miso Tra alto e basso Tra cultura mainstream Underground E poi a un certo punto C'è la politica Che entra E diventa Spettacolo Perché anche lì Effettivamente Quando diciamo Non è cambiato nulla In realtà Noi quando è arrivato Trump Noi italiani abbiamo detto Diletta Ma per favore Cioè anche lì È successo proprio Una crasi gigantesca Tra mondo pop E mondo Diciamo Quello che non ti aspetti Perché ne abbiamo parlato Anche con Aurora Borealo De Michelis Che scrive La guida Per andare Nelle discoteche D'Italia È quel punto iniziale Dove la politica È iniziato a toccare Il mondo pop E poi Ovviamente Silvio Berlusconi Ha fatta diventare Una cosa super maestra Quindi fammi capire Maria Tu sei della scuola Non è cambiato nulla Rimane sempre una specie Di refrain Una specie di canzone blues Che si ripete Già Battista Vico Che ritorna Costantemente Oppure ci sono dei gradini Che vengono effettivamente Fatti E quindi dei cambiamenti Ma i cambiamenti Secondo me sono evidenti E poi bisogna vedere Da che punto di vista Uno guarda le cose che accadono Cioè per alcuni Può essere un regredire Per altri può essere Un progredire Poi i cambiamenti Sono oggettivi Realmente oggi Ci perderemmo Senza Google Maps E Realmente tocchiamo Gli schermi Cioè negli anni Primi 2000 O negli anni 90 Cosa avremmo pensato Di uno che va Gli tocca il televisore Che è completamente sciroccato Probabilmente siamo diventati Tutti cretini Però vabbè Voi giocavate a Orienteering Tu giocavi a Orienteering Cioè lasciarti in un bosco E Io l'ho fatto con gli scout Certo punto Tremendo Sì dovevi orientarti Ed era Però è un modo buono Di far crescere Il nostro cervello Forse Ho avuto un dialogo Recentemente Con una mia amica Che ha un figlio Che è entrato A prima elementare Quest'anno E ha iniziato a fare L'alfabeto A imparare le lettere In realtà è il secondo anno Che fa Quindi il primo anno E mi ha detto Io sono sconvolta Perché gli hanno insegnato Le lettere Non in ordine alfabetico Quindi dalla A alla Z Ma in maniera Lei diceva randomica Poi ho scoperto Che insegnavano Le palatali Poi le labiali Cioè c'era Diciamo una struttura Fonetica Divise per famiglie Diciamo Divise per famiglie E poi ho pensato Guarda come cambiano le cose In realtà È molto più vicino A come noi navighiamo Su Wikipedia Insegnare le lettere In maniera randomica Che non quella enciclopedica Che abbiamo fatto tutti quanti Dalla A alla Z Forse è più vicino Anche al modo In cui pensiamo noi A cassetti Se io ti dico Mare Ovviamente Maria Inizia a pensare A una serie di cose Quindi Ci sono anche Dei cambiamenti Che stanno forse Modificando Noi esseri umani Internet È forse L'esempio più Lampante Ma io credo Che i cambiamenti Forse il cambiamento Più epocale Lo vedremo tra qualche anno Quando capiremo Questa generazione Di nativi Digitali veri Stupendo Non vedo l'ora Come ragionerà Perché Cioè i figli di Longoni Ragioneranno In maniera diversa Da Longoni Speriamo Speriamo La sopravvivenza Della specie Peraltro Lo spero anch'io Siamo fact Come dicono Lo spero anch'io Li ha fatti apposta Gemmato apposta Ho fatto apposta Per migliorare qualcosa Quindi sì Sei curiosa Del futuro Che verrà Sì O dei futuri Che verranno Perché Limitiamoci a uno Sì Sono curiosa Però ho anche Molta paura Perché poi vedo Che adesso i cambiamenti Stanno accelerando tantissimo Anche per una questione Di mezzi Che noi abbiamo A disposizione Vivere così Perennemente connessi Ci permette Anche di apprendere O di simparare Delle cose Più velocemente Di prima Quindi la mia grande paura È di non riuscire A stare al passo Forse perché ho ancora Metà del cervello analogico Certo Tu di che anno sei Lo possiamo dire? Ma certo 88 Ecco quindi sei proprio come noi Il cervello è splittato Metà in analogico Metà in digitale Ma io vi chiedo A cosa serve ricordare le cose? Cioè adesso ormai abbiamo Google Oggettivamente Abbiamo le memorie esterne Gli hard disk Che insomma Abbiamo un Google Che ci dice tutto Serve veramente ricordare le cose? Ma soprattutto Voi le ricordate le cose? Beh lui per lavoro si Io credo che Più che ricordare le cose Dico una cosa Che ti ricordi? Più che ricordare le cose Che ricordo? Io credo che ci serva Raccontare delle storie Cioè finché noi Come esseri umani Continueremo a raccoglierci Attorno al fuoco Anche metaforico E a raccontarci delle storie Ci sarà uno scambio umano Questo creerà una Come dire Un'energia Non mi piace la parola Un'energia Un momento bello Sì un momento in cui C'è una condivisione tra esseri E questo credo che sia La cosa che serve Che poi accada In maniera digitale Questo non è un problema Però di fatto che ci sia Un incontro Quando finirà anche l'incontro Se finirà Non voglio esserci Grazie C'è un pulsante Che devo schiacciare Direi che questo è il punto migliore Dato che Beppe ha alzato Il livello parecchio Su questa cosa del fuoco E degli esseri umani Che si raccontano le storie Con una clip audio Che io proporrei A proposito di futuri E di previsione del futuro E di come invecchiamo malissimo Signore Sappiatela Signore Sentite qua Lunedì 7 settembre 2023 2023 2023? Porca abbiamo perso Sette mondiali di calcio E io c'ho 77 anni Complimenti Ti riporti bene Grazie Ah Walter Ti interessa vedere Che è il nuovo presidente Del consiglio Che è? È questo qua Oh Un presidente del consiglio Nero Sì E i ministri Sono tutti extracomunitari Tunisini Filippini Polacchi Ti dico una cosa sola Il ministro degli interni Si chiama Abebe Bongo Ma scusa Allora Carroccio Ha perso la crociata E poi si è caputa Eh sì caro Lombardi E sprega del voto Eh ha sbagliato tutto Quel gasato lì Allora il film è A spasso nel tempo Avete riconosciuti Riconosciuti I giganti Della Della attorialità italiana Christian De Sica E Massimo Voldi Più Christian De Sica Io adoro Christian De Sica 1996 L'anno Quindi anni 90 pieni E parlano del 7 settembre Del 2023 Cioè praticamente Sei giorni fa Qualche giorno fa È stato ripostato Per quel motivo Certo Stratto incredibile Devo dire Il primo commento Che ho avuto È il classico Pianisteo Del conservatorismo Certo Cioè loro ai tempi Avevano il terrore Perché alla fine Il sottotesto È un po' il timore Perché stanno prendendo in giro Il fatto di avere Un presidente della repubblica Di colore O gongo Esatto E quindi lo esorcizzano Questa paura Con questa cosa qui Quindi c'è un sottotesto Leggermente Razzista E la capacità Di non saper Per vedere il futuro Perché noi attualmente Abbiamo il governo Più di destra Nella storia italiana Non credo ci sia L'unico è Sumaoro Se non ricordo male Che c'è in Parlamento Sì ma diciamo che non ha fatto Una fine E poi c'è stata Cecil Kieng Come ministro dell'integrazione Erano gli anni Di Danny Mendes Miss Italia Sì esatto O l'anno prima O l'anno dopo Quindi c'era questo terrore Dell'impasione E anche di Pittura Fresca Il Papa Nero Però ecco Siccome cambia tutto L'abbiamo un attimo disarticolato Questo luogo comune Non è vero che non cambia nulla Anzi cambia tutto Quanto siamo fallaci Nelle previsioni Cioè tu per esempio Nel podcast che fai Andando a rivedere Le cose del passato E vedendoti adesso Nel 2023 O andando a ripescare Questi pezzi di tv Che avete sul vostro profilo Instagram Strepitosi Quanto abbiamo sbagliato Le nostre previsioni Allora dal punto di vista Televisivo Siamo statici Cioè noi abbiamo notato Una cosa Che in quegli anni Sono nati molti format Sono stati introdotti Importati in molti format E sono quelli là Cioè è come se Il palinsesto Si fosse bloccato Esattamente Le note sono 12 E quindi prima o poi Sono 12 semitoni Sì va bene Perfetto Mentre per quanto riguarda La musica Ci sono corse Di corsi storici Per quanto riguarda La moda Anche Paradossalmente Se guardi La moda di oggi E quella degli anni 2000 Trovi tantissime cose Che sono tornate Ecco da quel punto di vista Né che non cambia nulla Semplicemente A un certo punto Qualcuno decide Come noi Di lucrare Sulla nostalgia E quindi Tira fuori Le cose Dai bauli Della nonna In questo caso La nonna sono io Scusami Il tuo format preferito Di quegli anni Il mio format Degli anni 2000 Televisivo Io ero una grandissima Fan Di Ima e di Regol Anche se non è proprio Degli anni 2000 Però mi piaceva molto Quella satira Che ops A un certo punto Dagli anni zero Scompare Chissà come mai Tipo Guzzanti Per fare un nome Diciamo che L'editto bulgaro Ha avuto Della contro I pezzi di Guzzanti Mi è capitato Da poco Di vederne uno Su Instagram In un reel Sono alcuni Tra i pochi Secondo me Che non sono Invecchiati male Questo è un grosso tema Perché la comicità Per esempio È un termometro Molto interessante Della contemporaneità Cioè Un comico Come Guzzanti Che tu rivedi Dopo vent'anni Esatto A Berlusco Ricordate degli amici È stata una cosa Una costante E ancora adesso Ti fa ridere Funziona Ancora tantissimo Non so se le nuove generazioni Lo capiscono Perché Tu mi sento Un po' satira Cioè Guzzanti riesce a fare satira Oggi Con un tema Che era di 15-20 anni fa Questo è anche indice Del fatto che Non è cambiato nulla Ora scherzo Ovviamente Non so se si ricorderanno Angelo Duro A questo punto Vediamo se Fra vent'anni Rivedranno Angelo Duro No Un altro segmento Di Guzzanti Che Secondo me Non è invecchiato di niente È quel segmento In cui viene investita Una persona Guzzanti scende dalla macchina Il signore dice Ma mi hai rotto la gamba Mi sono fatto male Allora rivolete il comunismo Allora rivolete il comunismo Volete l'Unione Sovietica Che è appunto Il pianistro della destra Che a me piace tantissimo Che dicono Che siamo circondati Dai comunisti Non se ne vedono Da 40 anni Non ci sono In Italia State tranquilli Siete al governo Comandate voi Cioè è evidente Ah voi scusami qui Tu ti stai mettendo In questo momento Non si può fare Ci sono Allora sei tu Scusa Ma allora sei tu Siamo in due Siamo in tre Quattro Scusate C'è un'altra cosa Che voglio aggiungere Sul piatto Visto che abbiamo Ricordiamo Il luogo comune Non è cambiato nulla Come il format Di Off Topic 24 minuti Da otto stagioni Quindi proprio Noi siamo Il perfetto esempio Del passatismo Una roba Credo che si utilizzi L'espressione Non è cambiato nulla Su più fronti Ma perché vogliamo Dentro di noi Che non cambi nulla Cioè la metto un attimo Sui diritti E sui privilegi Cioè noi vogliamo Conservare i privilegi Certo È chiaro E di fatto Perché noi non vogliamo Che cambi Perché ora stiamo bene No? Cioè noi Per esempio In questo studio A cosa rinunceremmo? Cioè tu a cosa rinunceresti Per esempio Maria Dei tuoi privilegi C'è un privilegio Cioè scusa C'è un privilegio È partita IVA penso Votare in Italia Effettivamente può votare Da quanto? Da 60 anni? Grazie mille Per averci concesso Questo diritto Pensa un po' Beh sai Uno dei miei privilegi È che Ho un ottimo metabolismo È vero Lo sei fatto tu da sola Non ti ho dato lo Stato Capito? No è capito Poi essendo partita IVA Praticamente non ne ho Però Ma è perché ti rodi svegato C'hai detto prima Che ti viene l'ansia per quello No non è l'ansia È rabbia Rabbia La partita IVA prova Rabbia non ansia Però quello Quello è l'unico privilegio A cui non voglio rinunciare C'è una cosa però Però non te l'hanno dato Ma nessuno mi ha dato niente No C'è una cosa su Non è cambiato nulla Che a me fa impazzire Che chi lo dice In realtà Andando un po' come il minatore Ancora indietro Tipo il far west Ti dice che c'era un'età dell'oro però Cioè non è cambiato nulla però Ai miei tempi Beh sì effettivamente I nostri genitori ci dicevano Ai miei tempi Tutto il lavoro che facevi Arrivava in quantità di soldi Incredibile Però te la porto ancora indietro Oggi ho visto un bellissimo meme Di Ancied Meme Su Instagram In cui c'era un'immagine Presa da Medioevo Insomma una cosa Di gente che si ammazzava Coltellate fa A morire con non curanza Credo no Ancied Meme si chiama E c'era scritto Il payoff C'era scritto Tipo Ah ai bei tempi Quando non c'era il cellulare Ci si parlava In realtà S'erano lì Che si ammazzavano tutti quanti Quindi tu soffri un po' di passatismo Maria oppure non te ne frega niente E dici ok Abbracciamo il futuro E via che andiamo Con le montagne russe Ma non c'è scelta Cioè sì Mi mancano un po' I tempi In cui non sapevo Cosa volesse dire Regime forfettario Quello sì Però che ci posso fare C'è una battuta finale Di un film di Virzida Tra l'altro di quegli anni Che si chiama Caterina Vincita Se non l'avete visto Che dice così Le mosche possono guardare In tutte le direzioni I pesci possono guardare Solo di lato L'essere umano Può solo guardare in avanti E questa secondo me È una cosa Da tenere in mente In generale Poi la nostalgia Fa parte di noi Va benissimo Ci stiamo Ripeto Ci stiamo lucrando sopra Quindi va anche bene Però non abbiamo Ancora inventato La macchina del tempo Poi chissà Tra mille anni Io tra l'altro Non so se la userei Perché non sono Di quelli che desidera Vedere cosa sarà O cosa è stato Allora ti chiedo E vi chiedo Ci chiedo Qual è una cosa Di cui abbiamo Tutti noi qui In studio nostalgia Io le mie ore Passate davanti Alla televisione A guardare telemarket Ah meraviglioso Le vendite di quadri Per me era mesmerizzante Credo il non plus ultra Della televisione mondiale Cioè il telemarket È la summa assoluta Del senso della televisione Cioè tenere davanti La persona A perdere tempo Di fronte a cose Che forse hanno valore Forse no E buh Chi lo sa Così Io personalmente Le vacanze con i miei Nei villaggi turistici Nelle marche Cioè Provi nostalgia Sì Provi nostalgia Perché era un momento In cui ci si caricava Non ero pronto Per questa confessione Io Io che odio Cioè nel senso I villaggi di vacanza Vaganza è la cosa Che proprio rigetta Ma non lo sa di te Sì Tra l'altro sono otto stagioni Di off topic Che parli male Dei tuoi genitori Sì ma infatti Ho detto di villaggi di vacanza Non dei miei genitori Non è questo genere Però ci sono No parlo male Perché ti lasciavano Al coso giocare Con gli altri bimbi E loro se ne andavano No No è perché Ci caricavano tutti in macchina Aprivano un telo di Lego Nei sedili dietro Così io e mio fratello Giocavamo E non rompavamo i coglioni E si arrivava giù Nelle marche Tra l'altro Mio papà faceva delle levatacce Per fare quattro ore di macchina Perché Verona Marche Le famose Alle due di notte Che io volevo C'è proprio i muri Però era Non so Un pochino quel gusto lì Mi manca del villaggio vacanza Non lo farai mai più Però nostalgia A me manca molto La capacità Che avevo Durante i miei vent'anni Di smaltire l'alcol C'è sempre un po' la cosa Di metabolismo Che ritorna Eh sì lo so Perché era veramente Il mio metabolismo Soprattutto negli anni Nei miei anni venti Era veramente La Lamborghini Eri un treno No ma di più Ma di più Ma che tipo Se ti spaccavi il venerdì sera Quando riprendi Cioè il sabato mattina Eri già un fiore Certo Ma soprattutto Non avevo segni sul viso Ero fresca liscia Io sto ancora smaltendo Un bicchiere di vino di ieri Mamma mia Vorrei far notare Che stiamo parlando di corpo E di metabolismo Stiamo ufficialmente invecchiando Ah sì Ma da malattie Ufficialmente Guardate se volete I medici fanno le ricette elettroniche Ormai Se volete Così almeno siamo tutti liberi Scusami dicendo Invece io amavo tantissimo E purtroppo non tornerà più Questo momento Cantare Anna Oxa Con mia madre in macchina Con tua madre Sì Che tra l'altro Lei cantava l'ottava giusta Io cantavo Credo l'ottava sbagliata Quella sotto Ci devi dire qualcosa È un'immagine bellissima Andavamo alle terme di Trescore Che devo fare la cura Per le terme al naso E cantavamo Anna Oxa Squarciagola in macchina Tra l'altro Mi dai un assist meraviglioso Perché spesso Il profilo Instagram Di Maria e di Alice E di Stefano Mette la solo di Anna Oxa A Sanremo Quella svirgola gigantesca In cui Dici ma che cacchio Mi è successo in quel momento Ha visto un ragno Che è successo Va bene Ringraziamo Maria Cafagna Per essere stata qui con noi Grazie a voi Grazie mille Io ringrazierai anche Il suo metabolismo A questo punto Anch'io lo ringrazio Sempre se l'ho dato Alla faccia della partita IVA Il nostro tempo è finito Sono 24 minuti Abbiamo fatti anche film troppi Drammaticamente Questo è Off Topic Fuori dai luoghi comuni Ci trovate sul nuovo sito Di Radio 24 Radio 24 E trovate anche il video Di questa puntata Mandateci una mail Così un po' anni 90 Anzi 2000 Off Topic Chiocciola Radio24.it E diteci i vostri luoghi comuni Stereotipi E cose che vi fanno Un po' arrabbiare No finiamo con una danza oggi Senza parole ragazzi Anzi senza pietà